Noi ci alleiamo con loro se loro mandano a quel paese quelli là. Noi ci alleiamo con quelli là se quelli là mandano a quel paese loro. Io non m'alleo con nessuno. Sono troppo intelligente. Avete un nome? Governo delle pulizie. Intendo il nome del premier. Chi è? Ah, io. L'incarico di premier potrebbe andare a Giuseppe Garibaldi. Quel mona che otto anni fa è stato eletto per sbaglio presidente della repubblica ha fatto un casino? No! Perfetto. Lo manovreremo come un burattino. Mi sembra un po' pochino però, premier, no? Potrei fare il capo dell'ONU? Parate sul serio. Punto uno, vietato prendere iniziative. Punto due, vietato parlare alla stampa. Dica solo, io parlo con i fatti. Se non rispetti le regole, motosega. Non ci vuole qualcuno che sappia come si dice quella cosa quando... Scrivere? Scrivere. Tu hai accettato l'incarico solo per vedermi. Per te, Janice, sono pronto a tutto. Perché non mi hai attutito? Quando ti ho conosciuto, tu lottavi per cambiare la realtà. Cambio l'Italia. E come? Come al solito. A cazzo. Ha istinto. Sembra un liceale. Penso che io non l'ho fatto il liceo. A casa! A casa! Mi fa male la faccia.